Oggi ti racconto una delle quattro storie che preferisco di Beatrix Potter, si intitola La storia di Peter Coniglio. C'erano una volta quattro piccoli conigli che si chiamavano Flospi, Mospi, Cotton Tail e Peter. Vivevano con la loro mamma in una tana di sabbia sotto le radici di un abete altissimo. Allora, miei cari, disse mamma coniglia una mattina, andate pure nei campi lungo il sentiero, ma non entrate nel giardino del signor McGregor. Laggiù il vostro papà si è messo in un bel pasticcio. La signora McGregor ne ha fatto un pasticcio di coniglio. E adesso via, e fate i bravi, io devo uscire. Poi mamma coniglia prese un brello esporta e se ne andò attraverso il bosco dal fornaio a comprare una forma di pane scuro e cinque panini con l'uvetta. Flospi, Mopsi e Cotton Tail, che erano dei bravi piccoli conigli, andarono per il sentiero a cogliermore. Ma Peter, che era molto disobbediente, corse dritto dritto verso il giardino del signor McGregor e si infilò sotto il cancello. Prima assaggiò un po' di lattuga e un po' di fagiolini e poi qualche ravanello. Dopo, siccome gli era venuto mal di pancia, andò in cerca di un po' di prezzemolo. Ma, girato l'angolo della serra dei cetrioli, chi ti incontra? Il signor McGregor. Il signor McGregor se ne stava a quattro zampe a piantare cavoli, ma salto su e corse dietro a Peter, minacciandolo col rastrello. Ferma, al ladro! Peter aveva una paura terribile e correva qua e là per il giardino perché non ricordava più la strada per il cancello. Perso una scarpa tra i cavoli e l'altra tra le pattate. Poi si mise a correre a quattro zampe, così andava più svelto e forse ce l'avrebbe fatta se per sfortuna non fosse finito correndo contro la rete del Ribes, rimanendo impigliato per il bottone della giacca. Era un bottone grosso, dottone, e la giacca era blu, nuova nuova. Peter si vide perduto e gli spuntarono due lacrimoni, ma dei passeri molto carini udirono per caso i suoi singhiozzi e volarono da lui tutti agitati pregandolo di farsi coraggio. Il signor McGregor arrivò con un setaccio per intrappolare Peter, ma lui sgattaiolò via appena in tempo, anche se ci rimise la giacca. Si precipitò allora nel capanno per gli attrezzi e saltò in un annaffiatoio, un nascondiglio perfetto, se dentro non ci fosse stata tutta quell'acqua. Quel coniglio deve essere qui da qualche parte, ne sono sicuro, pensava il signor McGregor. Forse si nasconde sotto un vaso da fiori. Così cominciò a voltarli pian piano a uno a uno per vedere se lo trovava lì sotto. Ma in quel momento Peter starnutì. E in un lampo il signor McGregor gli fu addosso. Cercò di tenerlo fermo col piede, ma Peter saltò dalla finestra rovesciando tre vasi di fiori. Per fortuna la finestra era troppo stretta per il signor McGregor e poi insomma lui era stufo di correre dietro a Peter. Così ritornò alle sue faccende. Peter si sedette a riprendere fiato, tremava di paura e non aveva la più palida idea di dove andare e poi si era bagnato tutto dentro quell'annaffiatoio. Dopo un po' cominciò a girellare qua e là, fermandosi di tanto in tanto a guardarsi intorno. Scorse una porta in un muro, ma era chiusa a chiave e non c'erano fessure abbastanza larghe per far passare un coniglio grosso come lui. Una vecchia topina invece andava avanti e indietro, traversando di corsa la soglia di pietra. Trasportava piselli e fagioli per la sua famiglia nel bosco. Peter le chiese la strada per il cancello, ma lei aveva in bocca un pisello così grosso che non poté rispondergli. Si limitò a scuotere la testa. Peter si mise a piangere. Poi pensò che forse il cancello era dall'altra parte e fece una corsetta attraverso il giardino, ma ci capiva sempre meno. Giunse allo stagno dove il signor McGregor di solito riempiva gli annaffiatoi. Qui trovò una gatta bianca che se ne stava zitta zitta a fissare i pesci rossi. Era completamente immobile, a parte la coda, che ogni tanto saltava su per conto suo. Peter pensò che era meglio andarsene senza far domande. Suo cugino Benjamin, coniglio, gli aveva raccontato certe cose sui gatti. Tornò al capanno, ma improvvisamente vicino a lui sentì il rumore di una zappa. Zaccate! 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 Però, siccome non succedeva nulla, lasciò il suo nascondiglio e si arrampicò dentro una carriola e sbirciò fuori. La prima cosa che vide fu il signor McGregor che zappava un campo di cipolle. Voltava la schiena a Peter e dietro di lui c'era il cancello. Piano piano Peter scese dalla carriola e si mise a correre più svelto che poteva per un viottolo che tra le cespuglie di Ribes portava dritto al cancello. Il signor McGregor lo scorse con la coda dell'occhio, ma Peter non importava più. Scivolò sotto il cancello e finalmente fu un salvo nel bosco fuori dal giardino. Con la giacca e le scarpe il signor McGregor fece un pupazzo per spaventare i merli. Peter non smise di correre nemmeno per guardarsi alle spalle finché non raggiunse il grande abete. Era a casa. Era così stanco che appena fu nella tana crollò sulla sabbia morbida del pavimento e chiuse gli occhi. La mamma era tutta indaffarata a cucinare. Che cosa ne avrà fatto dei suoi vestiti pensò? Peter in due settimane aveva già perso due giacche e due paia di scarpe. Purtroppo devo dirvi che Peter fu un pochino malato quella sera. La mamma lo misa a letto, gli preparò una camomilla e gliene fece bere un po', proprio come dice la ricetta, un cucchiaio colmo prima di andare a letto. Flopsy invece e Mopsy e Cotton Tail fecero una buona cenetta. Pane, latte e more.